Musica Sono arrivati anche da Niscemi e da Piazza Merina per affrontare la vicenda Liberi Consorzi, appuntamento ieri nei locali di Villa Peretti a Gela. L'iniziativa è stata promossa dal nuovo PSI. Si è parlato della legge regionale numero 15 del 4 agosto scorso su disposizioni in materia di Liberi Consorzi e città metropolitane. Lo scopo della tavola rotonda è stato quello di promuovere la discussione tra i protagonisti, gli esperti, gli amministratori ed i cittadini su un argomento molto sentito, il territorio di Gela nel contesto dell'area vasta della città metropolitana e Tnea. Dopo il referendum che ha deciso il passaggio delle tre realtà, Gela, Niscemi e Piazza Merina a Catania, non sono state ancora stabilite le competenze, soprattutto in ambito sanitario ed amministrativo. Gela vuole che il volere dei cittadini venga rispettato. Il fatto che le istituzioni siano rispettose di quello che hanno proprio loro portato avanti è una cosa gravissima. Noi riteniamo che non si può giocare sulla vita dei cittadini perché questa situazione di limbo non consente all'amministrazione di prendere dei cammini e delle decisioni. Il fatto di non sapere di essere ancora ad oggi sulla città metropolitana in modo ufficiale e di rimanere legati in modo forzoso su Caltanissetta sinceramente provoca dei problemi. non riesce ad avviare quel cammino che la nostra collettività ha bisogno. Ci sono troppi problemi e non si può scherzare con la vita dei cittadini. Vorremmo cominciare a discutere di soluzioni serie e concrete per problemi riguardanti agricoltura, i beni culturali, la sanità, tutte quelle che sono le attività legate al mare e tutto quello che è il bagaglio culturale ed economico che Gela porta all'interno della nuova area metropolitana di Catania. Noi siamo pronti a confrontarci su quelle che sono le nostre idee e su quelli che sono i nostri progetti concreti. Il comprensorio sud sarebbe quello rappresentato da Piazza Armerina, Gela, Niscemi dove il polo agroalimentare, il polo turistico e culturale e il polo industriale vengono praticamente a confluire e a creare le basi per un elemento portante soprattutto. Il sindaco di Niscemi Francesco Larosa. Se Niscemi ha da versare tributi, da dare contributo economico, sociale, siamo pronti. Però rivediamo un po' tutto, ripartiamo con il piede giusto per non creare una nuova struttura che alla fine ci riporta a dividerci fra qualche anno. Apertura della porta santa della cappella dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela oggi tra le emozioni dei presenti, un momento assai significativo e partecipato. La porta è un importante simbolo, richiama il passo evangelico di San Giovanni. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà Pascolo. L'apertura della porta è anche simbolo del cuore misericordioso di Dio, dischiuso nel fianco aperto di Cristo sulla croce. La ragione perché ho voluto anche in questa sede aprire una porta, una porta santa, ma diciamolo più specificamente una porta della carità, è perché propriamente vorrei far capire che non soltanto ai malati è data la possibilità di poter vivere questo momento giubilare, ma anche a chi non è malato, di visitando le persone bisognose, le persone malate, trovarsi nella disposizione di poter attraversare una porta, la porta santa. Che la porta santa non è un luogo fisico, anche se alla fine viene considerato tale, ovviamente, per motivi logistici, ma è legato all'esistenza delle persone. Quanti di noi facciamo del bene, tendiamo la mano ad una persona che ha bisogno, che si riesce ad accogliere, ad accudire, a mostrare affetto. Allora, in questo modo noi viviamo non solo il giubileo della misericordia straordinario, proprio per questo motivo, perché il loro noi attraversiamo la porta santa, per cui anche il lucrare le indulgenze, in questo caso, è legato effettivamente ad un gesto materiale di visita, di attenzione, di ascolto, di cura della persona. Subito dopo l'apertura, il Vescovo e tutti i fedeli hanno marcato la porta della misericordia. Essa evoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla grazia, confessando che Gesù Cristo è il Signore. Oggi all'importante iniziativa erano presenti il direttore generale dell'ASP, il direttore sanitario dell'ospedale, il sindaco e tutto il personale medico e paramedico. Alla fine della cerimonia, il Vescovo ha preseduto la solenne celebrazione eucaristica con la benedizione ai malati. Eccellenza, siamo alle porte della Pasqua. Il suo augurio per questa città intera che vive un momento di assoluta crisi, non soltanto materiale, ma probabilmente più che prima di ogni cosa, spirituale. L'augurio più grande che le famiglie, anzitutto, possono trovare la gioia di poter condividere assieme, non solo questi giorni di festa, ma sempre condividere assieme il pane che viene guadagnato con il sudore della fronte. E' stata scelta simbolicamente la data della giornata delle donne per attivare al comune di Gera lo sportello Anghelas, a supporto delle donne e dei minori vittime di violenza. Il nostro inaugurale è stato tagliato dal sindaco Domenico Mersinese e dall'assessore comunale ai servizi sociali, Licia a Bela, nei locali al terzo piano di Viale Mediterraneo. Il progetto nasce per fornire una risposta adeguata ed integrata con i servizi locali ai destinatari degli interventi, un adeguato supporto informativo ed un corretto accompagnamento guidato ai servizi operanti sul territorio. In collaborazione con le forze dell'ordine fornirà riscontri alle donne in situazione di rischio immediato per la propria incolumità ed esiterà le richieste di cittadini che desiderano informazioni sui servizi parenti o amici di vittime, che desiderano indicazioni o suggerimenti operatori dei servizi che necessitano di indicazioni sui centri servizi presenti nel territorio. Una possibilità, una porta, una porta che può indicare la luce a molte persone che vivono sicuramente un periodo buio. Lo sportello Engelas è uno sportello per la violenza di genere e di tutti i tipi, parliamo non solo per le donne ma anche per i bambini, per gli anziani, per gli omosessuali, per tutte quelle persone che vengono discriminate per qualsiasi motivo, per razza, colore, sesso. È un segno di civiltà per poter tutelare quelle minoranze, per tutelare le persone più deboli, che normalmente vengono sopraffatte da coloro che si sentono forti, che in realtà forse sono proprio loro i più deboli, però torturano degli esseri umani, a questo modo è possibile. È importante sapere, è importante sapere, qua non stiamo facendo denunze, noi qua stiamo facendo prevenzione, stiamo facendo, stiamo dando una mano per poter dire alle persone che si può uscire da determinate situazioni e che non si è obbligate, quindi qua noi non facciamo, non è importante la denuncia ma è importante la prevenzione. Altri servizi previsti sono l'accoglienza telefonica ed il primo orientamento sugli strumenti di tutela contenuti nelle normative che si riferiscono alla violenza contro le donne, la predisposizione e l'immediata attivazione di uno scenario di protezione per l'emergenza, effettuando una prima valutazione del rischio, l'accompagnamento guidato verso i servizi del territorio e l'attivazione delle consulenze idonee al supporto del percorso progettuale, legale, psicologico, orientamento al lavoro, salute, figli, figlie, sia ad enti pubblici che privati. La violenza è un atto di suppruso, un atto indegno di essere perpetrato e quindi riteniamo che questo servizio di supporto possa essere un vero valore aggiunto per la città e un supporto valido nei confronti del settore servizi sociali che si occuperà di essere il punto di unione tra il cittadino e le istituzioni. La giornata delle donne vista con gli occhi dei bambini, degli alunni, è il progetto fortemente evoluto da Maurizio Tedesco, dirigente scolastico del comprensivo Salvatore Quasimodo. Un momento di riflessione che ha coinvolto, come dicevamo, studenti e docenti. Già a partire dall'anno scorso tutta la nostra scuola elementare è stata coinvolta in questo progetto che si intitola Essere con gli occhi delle donne, che appunto vuole promuovere una riflessione sul tema della parità di genere, dell'uguaglianza dei diritti fra uomini e donne, soprattutto tra i bambini. Perché è proprio correggendo delle cattive abitudini, tra virgolette, che a volte si assumono, a volte in famiglia, che si può realmente promuovere la parità tra uomini e donne. Ma ci sono queste cattive abitudini, come lei sottolineava, in famiglia? Io credo di sì, ancora noi, soprattutto al sud Italia, penso che viviamo questo retaggio culturale e soprattutto credo che si debba mirare non tanto alla capacità delle donne di potersi proporre, quanto soprattutto si deve mirare ad una riflessione articolata degli uomini sulla importanza della parità di genere, perché probabilmente spesso siamo noi impreparati rispetto a questo argomento. Nel corso dell'iniziativa di oggi sono stati esposti i manufatti dedicati interamente alle donne. L'avvocato Giovanna Cassalà, responsabile locale di UDI, Unione Donne Italiane. Io veramente ringrazio le scuole per farsi promotrici di questi valori importanti, quali quello del rispetto della donna, soprattutto attraverso i bambini più piccoli. Come oggi la scuola, brillantemente retta da Maurizio Tedesco, ha voluto fare, proponendoci l'invito di volere dare il nostro contributo, oggi che noi come donne dell'UDI festeggiamo il settantesimo anno dalla conquista del diritto al voto. Ma oggi è un giorno di festa o è un giorno triste? Io ho sempre ritenuto che non si debba parlare di feste, ma di giornata di riflessione e di confronto tra le donne e gli uomini. Però voglio propormi in maniera positiva dicendo che deve essere anche una festa per le conquiste che abbiamo fatto, tra cui appunto quella del suffraggio universale, e per tutto quello che ci proponiamo di fare. Quindi le donne insieme agli uomini, perché gli uomini sono complementari ed importanti, dobbiamo festeggiare questa giornata speciale. Combattere e contrastare il fenomeno del bullismo, se ne è parlato questa mattina nell'aula magna dell'Istituto Scolastico Ettore Romagnoli di Gela, nell'ambito di un incontro promosso dal dirigente Sandra Scicolone. Preziosa la presenza dello scrittore Enzo Russo, autore di 32 romanzi, alcuni dei quali lo hanno imposto come uno degli autori italiani di maggiore professionalità nel campo della narrativa di genere. È un riconosciuto esperto di problemi legati alla mafia. La conferenza di oggi rientra tra le attività promosse da Russo con la sua associazione Io ho scelto. Il progetto che ho messo in piedi, che attualmente riguarda 27 scuole, è quello di, il messaggio è dire ai ragazzi, il problema del bullismo è vostro e lo dovete risolvere voi. Quindi noi tesseriamo i ragazzi che credono in questa iniziativa, classe per classe i ragazzi eleggono quello che io chiamo scherzosamente un onorevole, gli onorevoli tutti assieme formano il parlamentino della legalità, eleggono un presidente che ha accesso al preside, che ha accesso a me, che raduna il parlamentino una volta al mese per fare il punto della situazione scuola per scuola. Nessuno è mai presente agli atti di bullismo, solo i ragazzi, non ci sono mai i bidelli, non ci sono i professori, non ci sono i genitori. Quindi solo loro, infatti io dico sempre ai ragazzi, non azzardatevi a iscrivervi a questa associazione se non siete pronti a testimoniare. I lavori sono stati moderati dalla professoressa Lalicata. Noi come comunità scolastica avvertiamo l'esigenza di combattere fenomeni come il bullismo, come il cyberbullismo, come la violenza, soprattutto se esercitata nei confronti delle donne. Quindi ecco perché per noi era importante oggi dare inizio in una data dopo tutto simbolica, per altre ragioni, perché legata alla festa dell'8 marzo, ma comunque non lontana dallo spirito della nostra manifestazione, del nostro atteggiamento, volevamo proprio dare inizio così al mese che la Romagnoli dedica alla lotta contro il bullismo, dentro e fuori la scuola. È stato aperto al pieno terra della sede centrale di Viale Mediterraneo un ufficio dell'assessorate Servizi Sociali del Comune di Gela. È quanto hanno disposto il sindaco Domenico Messinese e l'assessore Licia Abela accogliendo la richiesta dell'Associazione H di Paolo Capici. I locali accessibili senza barriere architettoniche eviteranno disagio all'utenza che ha problemi di deambulazione. Tutto questo è stato possibile anche grazie e soprattutto alla richiesta dell'avvocato Paolo Capici. Noi ci siamo fatti promotori perché il nostro è uno spirito rivolto verso le fasce più deboli, verso le fasce che hanno bisogno e necessitano giustamente di tutela e di rispetto. A me, come ho avuto il piacere di ribadire diverse volte, l'avvocato Capici rappresenta una risorsa e quindi io sono al suo fianco e lui al mio per lavorare insieme, per trovare insieme le soluzioni, perché vogliamo essere vicini alle persone che ne hanno bisogno. Sono 30 anni che facciamo questo tipo di richiesta e quindi dobbiamo dare merito all'assessore Abela che ha sposato non a parole ma a compatti la nostra causa e abbiamo acquisito la dignità di essere ricevute a piano terra o in un locale dove c'è un ascensore e quindi le persone con disabilità, anziani, possono tranquillamente aspettare in un corridoio comodamente dove ci saranno anche, penso, delle sedie e delle poltroncine e questo è un passo di civiltà, oltre che essere anche un passo di legalità perché noi ci dobbiamo muovere in entrambi i fondi sia della legalità ma principalmente della civiltà perché la civiltà è quella che ci dà più dignità. Abbiamo sempre, grazie all'assessore, sbloccato il trasporto speciale, abbiamo sbloccato il trasporto scolastico e penso che l'assessore lavorerà ora con noi dopo che abbiamo fatto, come dire, l'emergenza per dare un volto diverso alla volontaria dal terzo settore perché sono beni che ci toccano e che sono molto più importanti di quelle che abbiamo affrontato. Migliorare la consapevolezza della possibilità di uscire in columi dall'attacco fisico di uno o più sconosciuti è l'obiettivo di un progetto che prevede lezioni di autodifesa proposto agli studenti dell'Istituto Luigi Sturzo di Gela le lezioni saranno tenute dal maestro di Winsu Kung Fu, Nunzio Anastasi Quali saranno i primi insegnamenti che impartirà ai ragazzi? Cercherò di rendere loro coscienti delle proprie virtù e poi in queste dieci ore cercherò di dare il massimo per portarli a un grado di difesa e di automatismi per la vita quotidiana Qual è la prima cosa che non bisogna fare quando ci si trova di fronte ad un aggressore? Innanzitutto cercare di scappare lasciando le spalle all'avversario e entriamo nel suo meccanismo di assalto Quindi lo si affronta ma con delle tecniche ben precise? Certo, creando appunto questi automatismi che dovranno venire in automatico Come mai per la festa della donna si insegna alle ragazze e ai ragazzi a difendersi? Quest'anno abbiamo pensato di festeggiare questa giornata con un'iniziativa concreta che riguarda appunto questo corso di autodifesa per le ragazze ma anche per i ragazzi che vogliono partecipare È un momento importante, abbiamo il dovere come scuola di insegnare alle ragazze anche come difendersi in occasioni spiacevoli che possono capitare a tutte Io l'ho fatto questo corso e devo dire che ne ho avuto tanto giovamento e quindi ritengo che le giovani ragazze debbano seguirlo in maniera attenta e puntuale In quanti hanno aderito e cosa pensano? I ragazzi hanno reagito in modo entusiasmante Io non mi aspettavo che più di 100 persone dicessero tra i nostri alunni vogliamo frequentarlo e vi ringraziamo perché il corso è assolutamente gratuito Ogni anno ho l'abitudine per la festa della donna l'8 marzo di regalare ad ogni classe un mazzetto di mimose Lo faccio anche quest'anno e quest'anno aggiungo con la mia proposta quest'altro mazzetto grande di mimose Come mai avete scelto di partecipare a questo corso? Beh, questa è un'esperienza più unica che rara Il fatto che la scuola ci dia questa opportunità gratuitamente è una cosa che non fanno tutte le scuole È molto gratificante il poter partecipare al giorno d'oggi a queste cinque lezioni di autodifesa Ringraziamo la scuola per questa opportunità che ci sta dando La cronaca di ogni giorno ha influenzato la vostra scelta? Anche Un percorso di autodifesa è un contributo alla loro crescita Si parla oggi tanto di stalking, si parla di violenza fisica, violenza sessuale Tant'è che le statistiche dicono che in Italia una donna su tre è vittima proprio di queste violenze Quindi la scuola dà un contributo Anche se il progetto non ha nulla didattico Quindi è qualcosa che dimostra come la scuola aiuta questi ragazzi a crescere socialmente e dal punto di vista personale Artisticamente Donna è una rassegna d'arte a 360 gradi Per ricordare tutte le donne, per celebrarle davvero in ogni forma Sì, essere donna oggi è una grande impresa Perché la donna non è che fa soltanto la mamma, la casalinga Una donna riesce a fare un po' tutto Come ad esempio quello che già avete visto Quindi l'arte, quadri, cucina Si riesce a combinare un po' di tutto Perché poi dobbiamo anche riuscire a combinare, a combaciare ciò che fa la donna a casa Quindi essendo moglie, essendo mamma, essendo un po' di tutto La creatività è donna Voi avete rappresentato questa mostra davvero con tantissime diverse forme creative Sì, ho cercato di raggruppare tutte le donne di gele e del comprensorio Tutte le donne che hanno qualcosa da dire, qualcosa da dare nel loro intimo La loro arte E quindi abbiamo le pittrici, le artigiane, il cucito creativo Abbiamo un ospite di Mazzarino, Elisa Garziano, che dipinge queste belle borse Adesso le potete vedere Abbiamo avuto Sonni Raggi, che ci ha dato questo piacere di creare questa cucina art donna E questo è il secondo anno che siamo qua E sono stata molto felice e contenta di averle di nuovo tutte qua Anzi, siamo di più di quest'anno Che cosa si augura? Un augurio per tutte le donne che ci stanno seguendo? Allora, l'augurio è quello di... Io oggi ho messo una foto Bisogna sempre Non tirarsi mai indietro Andare avanti sempre Comunque di fronte anche alle difficoltà Alle problematiche della vita, della famiglia Bisogna avere lo spazio per se stessi Per poter uscire fuori anche Da quei problemi, da quei pensieri che ci affliggono Perché è chiaro che ognuno di noi Abbiamo tante cose da affrontare Abbiamo le famiglie Però io quando mi vado a scuola di pittura, per esempio Io dimentico tutto In quel momento non esiste più niente E quindi è uno spazio per noi Per liberarci, per pulire la mente E dedicarci a tutto quello che a noi piace Dalla 2008 Già il capo della procura della Repubblica del Tribunale Lucia Lotti, originale di Firenze Lascia per un nuovo incarico Sarà il procuratore aggiunto di Roma Ritorna nella capitale Dove per 17 anni è svolto incarichi importanti Alla direzione distrettuale antimafia Con una specializzazione elevata Nella materia dell'usura Del traffico internazionale di droga E della criminalità organizzata Lucia Lotti è in magistratura dal 1981 Dal marzo del 1983 all'ottobre del 1986 È stato operatore a Monza Dall'ottobre del 1986 all'ottobre del 1989 Identico incarico lo ha svolto a Rieti Dall'ottobre del 1989 al gennaio del 1998 Ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore Alla procura della Repubblica Presso l'apertura circondariale di Roma Salvo il periodo di applicazione Extradistrettuale dal 1995 al 1996 Presso la procura di Milano Dal gennaio del 1998 È stato sostituto procuratore Al tribunale di Roma E dal dicembre del 1999 È stata assegnata Alla direzione distrettuale antimafia Della capitale Lucia Lotti nella città del Golfo Si è ambientata perfettamente E questa mattina Durante l'incontro con i giornalisti Si è commossa ogni volta Ha parlato di Gela Dopo tre anni dal suo insediamento Così come prevede il regolamento Avrebbe potuto chiedere il trasferimento Ma non l'ha fatto Gela ha detto è straordinaria Il procuratore Lotti è stato un punto di riferimento Ha svolto con immensa bregazione il suo lavoro Grazie al proficuo contributo delle persone Che le sono state accanto Dai rappresentanti delle forze dell'ordine Ai giudici del tribunale È sempre stata al fianco dei cittadini E degli studenti Proprio in occasione Della giornata internazionale Delle donne Dello scorso 8 marzo Un'intera classe del plesso Paolo Emiliani giudici Ha indicato in lei Il personaggio femminile della città Numerose le inchieste Che portano la sua firma Da quella sull'inquinamento ambientale A quella sul disastro innominato Che vede alla sbarra 22 indagati Tra i quali altri dirigenti Della raffineria Eni Dal contrasto dello spaccio di droga Al fenomeno della racket Delle estorsioni E dell'usura Tanti i procedimenti Che hanno portato poi Alla condanna degli imputati In merito proprio Al procedimento giudiziario Contro i 22 funzionari Del gruppo Eni La procura ha chiuso le indagini Che riguardano Un periodo di quasi 10 anni Le attività di bonifica Non sono state mai realizzate Con il conseguente disastro ambientale Un materiale di indagine enorme Come ha sottolineato Lo stesso procuratore In grado di assorbire Anche sentenze Già passate In giudicato A breve Sarà fissata La relativa udienza preliminare Un lavoro immane Che Ha ribadito Lo Celotti Risponde Alle sollecitazioni Che continuano Ad arrivare Dalla città È arrivato oggi a Gela Dopo 30 anni Giuseppe Caltabiano Il senior manager Di una delle più importanti Società di sicurezza Dei pagamenti elettronici Al mondo Giuseppe Caltabiano 54 anni Parla sei lingue E ha operato In cinque continenti La sua storia Privata e professionale Pur essendo stata Molto intensa Non ha mai dimenticato Le sue origini Tanto da aver chiamato Il suo cane Attia Ed avere personalizzato La targa Della sua automobile Con il nome Sicilia Lasciò Gela Dopo la maturità scientifica Per andare a studiare Ingegneria elettronica Al Politecnico di Milano Da giovane laureando Ha lavorato Per una società Dell'Olivetti Poi per la Philips La Fingros Card System Di Berlusconi La Verifon Per quest'ultima società Si trasferì In seguito a Londra E a Singapore Quando però Verifon Fu acquistata Da HP Caltabiano E tutti i vecchi Dipendenti Furono licenziati L'Oriundo Gelese Non si perse d'animo Si trasferì in Australia Creò la società Smart City Si associò a Cyber.net E tornò in Italia Per lanciare prodotti In Europa Una nuova crisi economica Lo tagliò fuori Ancora dal mercato Ma Caltabiano Riuscì nuovamente A risalire la china Proponendosi Come amministratore Delegato Multi proprietà Per poi rilanciare La sua azienda Nello stato del Montana Vedere l'affetto L'amore Vedere Padre Alabiso Che era il mio paro Con l'oratorio Vedere i miei vecchi amici Vedere il mare Vedere tutti voi È un regalo Che nessuno potrà Mai eguagliare Per cui ringrazio tutti E spero Spero Che ci sia la luce Alla fine Di questa galleria È che i ragazzi Crescano Per portare Una parola Di contentezza E di successo Da Gela Nel resto del mondo A Giuseppe Caltabiano Monsignor Grazia Labiso Ha regalato l'icona Di Maria Santissima D'Alemanna Patrona di Gela Oggi è una giornata Importante Perché Stiamo ospitando Un figlio Della nostra città Che è andato Fuori Per motivi di lavoro Come tanti Nostri concittadini Che però Stiamo chiedendo Oggi Di farsi Testimone Di farsi portatore Delle bellezze di Gela In modo tale Da poter Avere Dei Nostri rappresentanti Che possono Ingentivare Le persone A venire Qua a Gela Per ammirare Le bellezze Che abbiamo Un figlio